Prenderà il via il 30 novembre ad Arezzo la sedicesima edizione del Forum Risk Management in Sanità. L'evento, in programma fino al 3 dicembre, è promosso dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Fondazione per l'Innovazione e la Sicurezza in Sanità e dalla Regione Toscana, con il patrocinio del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome e del Parlamento. Sarà la grande occasione per ridefinire la sanità del futuro. Il Forum a novembre sarà l'occasione importantissima perché ufficialmente il Governo, il Ministero della Salute, l'Agenas e l'Istituto Superiore di Sanità presenteranno la riforma della sanità nel territorio, che sappiamo essere al centro del famoso piano di rilancio e resilienza che è stato già approvato. Questo presenteranno il piano e anche con i fondi da assegnare alle diverse regioni e alle aziende sanitarie per cercare di realizzare tutto quello che serve per portare l'assistenza e le cure più vicine possibile al paziente, addirittura fino a casa del paziente. A fianco ai soggetti istituzionali, le aziende sanitarie, i presidenti di tutti gli ordini professionali, società scientifiche, associazioni di pazienti, volontariato, terzo settore e imprese fornitrici di beni e servizi del sistema sanitario. Una grande platea di soggetti coinvolti che, forti dell'esperienza di contrasto al Covid-19, sono adesso chiamati a ridefinire i modelli di assistenza nel territorio. Da qui la necessità di mettere a fuoco nel corso del Forum competenze e funzioni di case della comunità e distretti, in agenda anche il ripensamento degli ospedali in una chiave più aperta al territorio, più ecosostenibile, flessibile e tecnologica. Tra gli obiettivi da centrare è anche l'implementazione della telemedicina e della teleassistenza ai pazienti. La prospettiva è quella di costruire un nuovo pilastro dello stato sociale del nostro paese e nella nostra regione.